San Candido, piazza del magistrato, sede del municipio. L'assessore dell'edilizia pubblica al patrimonio Massimo Bessone insieme al sindaco di San Candido e a quello di Sesto Pusteria per analizzare i nuovi sviluppi delle strutture scolastiche della città. La scuola media sovracomunale di San Candido e Sesto sarà costruita ex novo. La scuola superiore dove ha sede l'istituto tecnico economico in lingua tedesca di Brunico e San Candido sarà ristrutturata. Questi interventi vedono la collaborazione tra la provincia e i comuni di San Candido e Sesto Pusteria. L'investimento complessivo è di circa 14 milioni di euro, dei quali 4 milioni e 700 mila a carico della provincia di Bolzano, circa 6 milioni a carico del comune di San Candido e restanti 3 milioni e 200 mila euro a carico del comune di Sesto Pusteria. Questa convenzione sigla un accordo tra la provincia e i comuni di San Candido e Sesto di Pusteria per la costruzione di un polo scolastico, una scuola media e una scuola superiore. È giusto esserci, è giusto lavorare assieme ma è anche giusto che i comuni riescano a decidere e a seguire il progetto in maniera più dettagliata. Siamo molto contenti di poter dare scuole sempre più nuove, moderne, funzionali e soprattutto sicure perché ci studiano i nostri ragazzi il nostro futuro. Questa scuola viene inserita in un contesto dove ci sono altre scuole, una piscina, una palestra, l'ospedale è al centro di San Candido e cerca di fare il meglio per questi ragazzi e sicuramente sarà sempre più funzionale. La provincia è contenta di poter intervenire e di poter delegare i comuni perché loro operano in loco soprattutto con i sindaci, con il personale della scuola e possono decidere quello che è il meglio per gli studenti, per i loro ragazzi. Il comune di San Candido sarà incaricato come unico committente dell'intera progettazione e realizzazione del complesso. La collaborazione tra il comune di Sesto Pusteria e San Candido è molto importante, da una parte perché noi facciamo parte del distretto della scuola di San Candido, dall'altra parte la provincia ci sostiene finanziamente sul campo finanziario e la provincia è responsabile per le scuole superiori, per cui noi abbiamo una scuola superiore qua a San Candido che viene assolutamente finanziata da parte della provincia. Saranno realizzate tre nuove unità comuni, una mensa ed una biblioteca nell'edificio della scuola media ed un'aula magna nell'edificio della scuola superiore. Al centro tra le due scuole verrà realizzato un nuovo cortile. Naturalmente la collaborazione tra i comuni per quanto riguarda il sistema delle scuole è molto importante. Noi come comuni di Sesto abbiamo già da parecchi anni la scuola media per i nostri scolari, per i nostri bambini a San Candido e naturalmente anche la scuola superiore che è stata frequentata parecchi anni fa anche dalla gioventù di Sesto. Certamente l'obiettivo è sempre di dare il meglio per la scuola, per il futuro, per i nostri bambini, per la nostra gioventù. Il progetto per l'opera porta la firma dell'architetto Wolfgang Simmerle. Grazie.